Moda e Monsieur! Monsieur e Moda! Moda e Monsieur! Benvenuti alla compasso della cena di quest'oggi! Siete tutti pronti? Noi siamo qui, pronti come sempre, italiani al fetà! Siamo tutti gemelli, amici del cornelli! Noi siamo qui, amiamo spadellati per tutti i mondi! Dai, un mostro! Uno scarafaggio, un ratto, una grande e tremenda cuscina! Un mostro, amici tutti, cattolino! Mi hai fatto male ad entrare in questa cuscina! Fermi! Aspettate! Io non sono un mostro! Ci hai già fatto un petto per un sacco di tempo! La sera sta arrivando! E noi non abbiamo ancora preparato nulla! Scusate! Ma voi state preparando da mangiare per questa sera? Il menu che vede vi pertonè con sopra una sglattugiata di nocciole! Pogli i peti al sugo, ripieni di polpetta! Orecchiette con le scime di roppa! Ragazzi, arriviamo a volerà! Risotto servaggio con salsa di menta e nocci! Pogli i peti al sugo, ripieni! Grzie a tutti! есть! Grazie a tutti! Grazie per la visione!